Nel comparto olivicolo brisciano si stimano perdite di oltre il 40% di produzione e analoga alla situazione in tutta la regione Lombardia. Sono gli effetti negativi della grave siccità delle ultime settimane che insieme alle alte temperature hanno causato un grave stress idrico degli olivi con foglie scottate ingiallite e olive molto piccole. Anche le olive che sono riuscite a svilupparsi sui rami degli alberi faticano a crescere e danno una resa finale di olio inferiore. I presupposti sono quelli di un'annata pessima. Quest'anno la situazione è abbastanza problematica soprattutto per la siccità. Non ha piovuto l'inverno e neanche in primavera quindi abbiamo già un terreno che è molto siccitoso e per di più dopo la fioritura non c'è stata una pioggia che ha aiutato la legagione e non c'è stata neanche una pioggia che ha aiutato l'ingrossamento del frutticino. Quindi ci troviamo con un terreno molto arido, temperature molto elevate che stanno compromettendo anche nel mio terreno una grave cascola delle olive. Le piante più giovani che abbiamo comunque piantumato nel 2000 hanno esso 20 anni e sono in terreni abbastanza terrazzati e stanno subendo l'arricciamento delle foglie che è la causa principale della siccità. Così a presso poco io stimerei una perdita intorno al 40-50% della produzione. E' un discorso che veniamo già da un anno dove la produzione è stata quasi zero. Per di più però ci sta avvicinando anche il problema di cimece asiatica che oltre la siccità sta provocando un alto problema per le olive.